salve amiche ed amici qui il vostro saint jean in un breve commentario del giorno o canzi ho ascoltato alla televisione l'ho anche visto trattandosi nel televisore non ho chiesto gli occhi che ci sono dei disordini in baltimore hanno bruciato una gazzella della polizia non so se la si chiamerà gazzella patruglia hanno saccheggiato i negozi come luogo in questi casi ci sono dei disordini razzisti perché come al solito gli afroamericani fanno producono dei disturbi ogni volta che non ci dono uno ma tanto ci hanno ossessionato i media ci do dentro con i tagli perché mi hanno detto che piacciono tanto ci hanno ossessionato i media negli ultimi anni con queste primaveri arabe che sembravano così tanto spontanei così tanto che poi invece i manifestanti innocenti civili donne e bambini fecero subito spazio diedero cedettero luogo alla fuoriuscita di bande criminali mercenari armati fino a denti che hanno ribaltato governi per più tiranni che erano che erano i governi legittimi dalla marocco a tutto il mondo arabo musulmano il maghreb e tutto il resto sia quello che è successo egito tunisia che poi si è visto che tanto spontanei queste primaveri arabe non erano non primaveri perché non è venuto l'estate e non erano arabe ma pensate da fuori mercenari come quelli poi dell'isis che non si sa chi finanzia ma adesso con tutti questi incidenti incluso quello di baltimore non è che ci troviamo di fronte a tagli quelli di youtube mi consigliano i tagli e non è che ci troviamo di fronte a una primavera statunitense una primavera yankee la primavera degli usa perché ora da mesi se non da anni che ci sono tutte queste rivolte popolari di afroamericani non sarà mica che ci hanno presso il gusto alle primavere e ne vogliono fare una in casa non sarebbe strano non mi stupirebbe più di tanto perché chi la fa l'aspetti loro hanno fatto le primavere a tutto il resto del mondo ma fin dall'intervento in casa blanca nel 1845 1856 quando il deputato il deputato monroe diceva che il popolo prescelto era quello statunitense perché gli yankee erano wasp ed erano avanzati tecnologicamente scientificamente ed anche come il popolo erano molto avanzati allora interveniva nel marocco casablanca poi la prima seconda guerra mondiale e così dopo i fatti di preton wood quelli lì si sono sentiti legittimati a fare un nuovo ordine mondiale con il fondo monetario internazionale nazioni unite e tutto il resto e hanno fatto gli edifici del world trade center che raggruppavano erano gli edifici del potere di tutto il complesso mondiale norma mentistico negozi eccetera commercio economia finanza quindi loro hanno imposto le primavere arabe già la prima delle primavere arabe nel sud est asiatico e tutto ma adesso la propria popolazione statunitense soprattutto quella che non è di origine anglo americana si sta scorciando e sta iniziando la sua primavera araba anche se loro trattano di sopprimerla perché non è giusto che gli stati uniti abbiano una primavera stelle strisce i paesi arabi sì perché sono arretrati sono arabi sono del maghreb sono musulmani e stanno indietro nella storia nella civiltà quindi loro devono avere tante primaveri come sia necessario ma gli stati uniti non possono avere una primavera stelle strisce loro che ispirano le primavere nel mondo e quindi niente questa mia breve intervenzione era per per dirvi una breve esternazione cioè che forse ci troviamo di fronte a una svolta epocale perché finalmente chi la fa la spetta ci sono primaveri statunitensi negli stati uniti e la gente chiede giustizia perché non si può sicariare qualcuno per la strada giusto perché c'è un controllo poliziale e gli spari ci c'eravamo informati di come al check point in iraq e in afghanistan uccidessero persone ecco adesso poco manca che fanno i propri soldati statunitensi checkpoint negli stessi stati uniti perché fermano le persone agli spari quindi ci sarà una primavera stelle strisce una primavera usa non lo so ma da quello che ho ascoltato oggi nella rai dei disordini in bergson non so adesso mi sono scordato e in tutti i disordini che ci sono connessi alla violenza poliziale io credo che sarà per arrivare una bella primavera stelle strisce questa volta non sponsorizzata nel nessun governo coalizione militare sarà del tutto spontanea speriamo che non naufraghi come il loco si occupi wall street che poi si è rivelato una bufala perché hanno repesso tutto in questo caso io non so però sono nell'aspettativa per vedere se questa volta gli stati uniti si correggono ci sarà una primavera statunitense o ci sarà giustizia boh non lo so un saluto dal vostro santigian ed è presto e grazie per seguirmi nel mio canale grazie 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 grazie